E' un'altra cosa. Sono una cifra bravi. Creano disuoni maissimi. Tomà, di Daft Punk. Non penserai ancora di fare il D di Jasper? Mi prestate duemila franc. Non hai soldi per l'acqua calda e ti compri le magliette da Polsme. Questione di priorità. Te ne presto mille, ma guarda che me li devi ridare. Io ne metto mille per la tua coca. Ehi, ma quanta te ne spari? Partiamo per New York. Beh, andate. Avete bisogno di me. Ti ho chiesto di venire perché ne ho bisogno. Se non ci sei, sono triste. E siete grandi, ma forse dovreste aprirvi un po'. Non vi chiedo di fare come David Guetta. Ne abbiamo già parlato. Adesso ti ammazzo! Ho deciso di dare un taglio con le serate. Sì, deprime a vivere la notte. Oh, che bella gioia. Ho 34 anni! Vabbè, allora. Sei fortunata ad aver trovato il tuo equilibrio, cancellando il passato. Anch'io ci ho pensato. I nomi? Tomà e Giman. Eh no, non ci siete. Spiacente, ma non posso farvi entrare. 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 Spiacente, ma non posso farvi entrare.